Dopo la prima partita della storia su Fortnite con la nuova PlayStation 5 è arrivato il momento di fare la vittoria reale su Fortnite Con la... sempre la PlayStation 5 certo Ce la faremo? Sì, per forza, anche perché io non smetto di giocare fino a quando non riusciamo a fare la prima vittoria in Italia con la nuova PlayStation 5 Sarà una sfida incredibile ma ho raturato con me Oh no, aspetta, ma chi sono questi? Volevo dire la squadra più forte al mondo ma siete sempre voi Adesso va bene la super qualità della PlayStation 5 Va bene il nuovo joystick che ancora non riesco a usare bene perché ho tutti i tasti modificati, ok? Che non so costruire e tutto quanto Ma se non riusciamo a fare una vittoria reale con la nuova PlayStation 5 è inutile giocarci Ed è per questo che oggi ce la dobbiamo per forza fare Giocheremo con la massima concentrazione Addirittura la nabba di Ninna riuscirà a fare delle kill secondo me oggi Ehi! Che c'è? Ti ho per caso detto qualcosa di sbagliato? Lo sapete dove sono? Dove? Io intanto ho rubato un'arma in modo clamoroso a ferro Dove sei Ninna? Oddio dove sei? In una cuccia per cani In una cuccia per cani? Ti sembra il caso di stare nelle cucce per cani durante una partita così importante? Perché nella cuccia per cani c'è uno scaracca leggendario Ah! Io ti dovrei credere? Sì Ok non ti credo comunque Come no? No non ti credo non ti credo Se vuoi vieni qua e portamelo davanti ai miei occhi Oppure Giocaci te che cacchio ne so Vabbè comunque adesso armi o non armi Scherzi o non scherzi Cuccia di cani o non cuccia di cani Ferro te che sei il programmer C'hai tutti i ferro da stiro lì nella tua stanza Come e come dobbiamo giocare per vincere con la nuova play 5 secondo te? Allora adesso aspettiamo due minuti Quando parte la safe e finiamo di luttare bene Ok Allora che abbiamo un buon loot Prendiamo le Lamborghini e ce ne andiamo in safe Oh questa sì che mi piace come strategia Però la Lamborghini la voglio guidare io Che voglio vedere come se guida da questa nuova playstation Ehm Direi di no dopo l'ultima scena con la macchina di Sì Come direi che ne hai fatto volar giù E aspetta 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 Che cosa volete dire? Che non sono un bravo guidatore? No Pula Lamborghini non la guidi Ok farò solo il passeggero allora Mamma mia che cattivi che siete però Oh comunque è assurdo Ho visto tutti quanti Voi siete tutti qua tranne una sola persona Ninna Ma dove sei? Troppo gamer C'è che tenesse andata nella cuccia del cane Dall'altra parte della mappa Sì perché io ho preso la scaracca Sì va bene Ninna Guarda che non ti crede neanche il pesciolino che sto per pescare Chi è che ha sparato? Esatto Io No 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 Non siete che ha sparato Ci sono dei nemici davanti a me Qui 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 dove sto io Mi sparano Attenzione Ok preso Preso Ho atterrato Vai così Adesso ammazzò l'altro Grande Mattis Oh quanta gente c'è Quanta gente c'è Brava Jess Aspetta che c'è un altro Anche l'altro Muori Ule Te l'ho rubato clamorosamente Scusa Jess Gigi Prima squadra andata Prima squadra andata Abbiamo agito tutti quanti molto bene Come se fossimo davvero la migliore squadra da PS5 Se non fosse che qualcuno manca l'appello Esatto Ragazzi ho trovato la Lamborghini Eh certo ho trovato la Lamborghini Ho trovato la scarra Intanto noi dobbiamo fare il lavoro sporco di uccidere i nemici Aspetta Guarda dove sei? Ecco mi sto arrivando Oh mio dio quanto sei veloce Ninna Nina dove vai? Ma hai appena fatto un incidente Fammi salire fammi salire Eh ma almeno fammi salire un attimo No vabbè non ci voglio credere Non ci voglio credere Ma dove cavolo vai? Ma è possibile che non sei? Ok ci sono Non ci credo Ciao ciao Mi aspetta Aiuto Ninna Eh? Eh hai smesso di muoverti Ah Prendiamo se l'ha vista anche Jess No ha solo due posti questa macchina No vabbè Eh una macchina un po' brutta Aspetta Vabbè sentite io scendo non mi fido di stare con questa qui Matti ecco ho fatto No 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 basta Allora ti metto sotto Matti vieni qua Oh no Che liscio Ninna questa è una partita importante Capisci che è una partita importante? Oh mamma mia liscio Wow Ok Sono salito Fregata Ciao ciao Ninna No Ciao Ninna È stato un piacere conoscerti Matti ti lascio No 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 Ti venga a prendere Io ti aiuto Andiamo via Andiamo via da Matti No 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 Sono sceso dalla macchina Sono a mani Mani in alto Non sto facendo niente Non mi voglio dar fastidio Voglio solo vincere sta cacchio di partita da Playstation 5 Ok eccomi andiamo Questa partita la vinciamo sicuro Io direi di quittarla già adesso ragazzi No no ma che quittare Voi state sottovalutando questa partita Secondo me ce la faremo a vincere E mi avete rubato tutto quanto Grazie vi voglio bene anch'io Andiamo in safe Prendiamo altre armi Perché io sinceramente Non sto messo benissimo E andiamo a conquistare sta cacchio di vittoria Senza magari esplodere con la macchina Ok Io non ho mai visto il tuo scaracca Ora però vedo i nemici Regà attenzione Questi li dobbiamo far fuori Questi li dobbiamo far fuori Per forza perché hanno delle armi incredibili Ok Jess da te Ok bravissima Ok attento all'altro eh Lancio le granate Lancio le granate Ti aiuto Ok Ok spero di averti dato una mano Ah ti sta attaccando Ti do una mano io L'ho colpito Oh cacchio Oh cacchio Ferro hai bisogno di una mano? Aiuto Eh no dovrei riuscire a chiederlo Calatus Ok Arrivò un colpo super mega Vai ferro Vai ferro Ce la puoi fare Jess l'hai ucciso il nemico? Sì Ok grandi ragazzi Non ho fatto letteralmente Nulla Io sono arrivata in macchina A controllarla Cioè allora io non avrò fatto nulla Ma almeno sono uscito Dalla macchina Ninna Ragazzi Non ci voglio credere No 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 Abbiamo già avuto più esperienze Con la safe Quindi andiamocene via va Ma guardate oh Da sta playstation 5 Persino Una cosa come la tempesta Una cosa oscena Come la tempesta Diventa bella Vabbè facciamo finta di niente Scusami Ero impegnata a vedere I riflessi dell'acqua Dallo schermo Comunque ecco mi sto Arrivando Perdonami Ok Io vedo Li vedo Li vedo Squadra unita Ragazzi venite tutti da noi Sì Arrivo Ok Vuoi vedere cosa posso fare Io ho i lanciarazzi Se vuoi Solo che stiamo in una Arrivo Vai Mattiz E' pronto Vai 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 Ok Vai 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 Ma stanno combattendo tra di loro Sono nemici Ok ne dobbiamo approfittare Ragazzi venite 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 Ok Uccisi Mattiz Tutti e due Credo di sì Fanno male Come nemici Ragazzi ci sono altri nemici Col motoscafo Ok Sono scesi No no ragazzi 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 Non è la migliore situazione per fightare Dovremmo andarcene in safe Lasciamoli stare Lasciamoli stare Fidatevi Oddio non mi sparate addosso però L'albero l'albero Va bene anche così Ragazzi l'ho visto eh Ah si si è visto Io spero che dal video si veda la qualità di Fortnite dalla Playstation 5 perché No 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 prendete Ninna prendete Ninna Ninna viene uguale Eh ragazzi C'è una spesa Sopra di noi ci sono dei pro player Sopra di noi? Cosa? Sono quelli che sono rimasti vivi a Stark Industries Quelli che volano Oh cacchio Via 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 E pari via E pari amogli Ma dove stanno? Non li vedo Ah ma stanno volando Eccoli No non li prenderemo mai nella vita No non li prenderemo mai nella vita No 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 Io per lo scaracca leggendario Secondo voi li prendiamo? Ninna io sto scaracca leggendario ancora non l'ho visto Quindi mi dispiace ma non mi fido Ok ragazzi c'è pure gente là Cosa vogliamo fare? Non lo so aspettiamo la prossima tempesta Vediamo dove si va a chiudere la safe Tra l'altro dieci anni fa Stavo dicendo che Vorrei che si vedesse così bene nei miei video La qualità di questo Fortnite Perché è davvero bellissimo Io mi sono chiuso da solo nella tempesta Sono stupido Ok direi che è il momento di andare di nuovo in safe Strano che non siamo mai in safe È incredibile eh Ninna se vuoi c'è un posto per te sulla macchina No Ma che vai da sola? Sì Dai Ninna non puoi andare da sola Sali sulla macchina per favore Sto bevendo Vabbè ti vengo a prendere io con la forza ora No addio Vieni Dietro di te Sali Non ci voglio credo No vabbè Ragazzi stai fermo Te lo dico Io ora quinto Ma stai fermo Grazie al cielo Ce l'abbiamo fatta Noi stiamo giocando la partita più importante del secolo Per essere i primi in Italia a vincere su PS5 E dobbiamo fare ste figuracce Allora dai non giocherò mai più con te Ragazzi occhi aperti Occhi aperti E più aperti dei meno Eccolo Ok vado in safe Oddio Qua è uno di vita Ok Combattete Combattete come se non ci fossero domani Aia Mi hanno preso Mi hanno preso A terra Wow Ok Gigi ragazzi Sento altri spari però Ho un lanciarazio E non ho paura di usarlo Mi hanno preso L'ho atterrato Mi hanno ucciso Da me da me da me da me da me No mi hanno ucciso Non ha vita Ok Ok Mamma mia che fight Ho fatto due kill Ma c'è ancora l'emico Nina Nina Ah ma è Nina che spara Mamma mia che paura mi ha fatto venire Prendete la mia scheda e rianimate Mi vi prego Dov'è la scheda? L'hanno già raccolta Dobbiamo andare a corso ragazzi Sì 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 Andate a corso e recupera Ma perché spara Chi è che spara con la mitraglia? Eh Nina che spara a me a Jesse Tutto sotto controllo Tutto sotto controllo Ragazzi io sparo alle impalcature Perché non riesco a toglierle Bene Bene Continuo a ripetere che questa probabilmente È la squadra più forte del mondo Di PS5 su Fortnite Non era meglio prendere la macchina Forse sì Adesso Non lo so So solo che siamo in endgame ragazzi Resta probabilmente un'altra squadra E un'altra ancora E dovete per forza rianimarmi ora Per forza Non posso vincere una partita Con il joystick della Playstation 5 Ma senza giocare E intanto tu sei morto Io no Questo fa capire che sono più bravi Va bene Va bene Lo ammetto Dine più brava di me Che vi devo dire Basta che mi rianimate però Ma come Mattis Ma lei giocava con gli altri Sparava a te nel frattempo No Io sono arrivata in macchina A proteggermi Quindi in realtà sei tu il nemico Ninna No Non posso Impostore Sei un'impostrice Ninna Un'impostra Grabratrara Impostora Impostorebbe Meno di 20 cosa Vi prego Ditemi che Ci sono nemici Non ci credo Non ci credo Non ci credo Dimmi che non ti hanno visto Aspetta 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 Forse Sì Ti ha visto Ragazzi Jess Aiutaferro C'è una squadra nemica intera Controferro Ok bravo No Non ci voglio credere Stanno già combattendo Ok bravissimo Arrivo anch'io Se è il mio pro player preferito Ok Prova Ninna Bravissima Dentro dietro raga Dentro Oh cacchio Ma chi è? Che straccia questo Ninna che ti frega di quello atterrato Pensa agli altri Bravi Uccide Vado Uccide questo Vai 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 mi a curare Vai mi a curare Ma sono seriamente vivo? Mi state dicendo che sono seriamente vivo E posso fare ancora la vittoria da Oh 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 Ok Ok Ho solo una pistoletta Qualcuno per caso ha un'arma per me Amore mio Tu hai un'arma per me Per caso? Un cacchio Chi è che spara? Stiamo contro i pro player Che avevano preso Iron Man Ragazzi Ho una sola pistoletta Mi servono armi Vieni qua Matis qua Sì 24 Bellissimo Ok arrivo Ragazzi Sì Sto morendo No Ninna Non puoi morire Vieni qua Ok Colpite lanciarazzi Aspetta Ragazzi Massima concentrazione Siamo al fight finale Ce la dobbiamo fare Ok Ok Massima concentrazione Loro sono in alto Dove sono? Che li faccio scoppiare Ninna Ninna Vieni da me Ok Aspettate Ragazzi Probabilmente hanno i cecchini Stiamo attenti Stiamo attenti Ce la dobbiamo fare Stai attenta Stai attenta Che ti sparano Ninna Non andare così Non avevo visto Ok Ragazzi Provo No 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 C'hanno troppi cecchini Ragazzi Io non so come fare Vieni qua Spara un colpo Con lanciarazzi Ragazzi Ci provo Ci provo Vado Boom Ok Lanciato Dobbiamo andare da loro Porca miseria Attenti Ok Jess ti seguo Ferro viene anche te Oh mio dio Vi prego Fateci vincere Per favore Per favore Io e Jess Stiamo busciando E ragazzi Se riuscite copriteci Ok Bravissimi Jess vieni qua Vieni qua Dove? Vieni da me Sto salendo Arrivo Tanto sono con legno Eh io invece non c'ho più materiale Se riesce a salire Sono morto Sono morto No Passi Ragazzi Stai arrivando ferro Ragazzi 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 Sono mortissimo Mi sono chiuso dentro Mi sono chiuso dentro Con 4 di vita Ha caricato l'arma Ci sono anch'io Qualcuno Per caso Riesce a venire da me No No mi spara Ok lo vedo Ti do una mano Jess ti vengo a salvare io Ragazzi da me Ho le bende Da me Da me Ho lasciato Ho lasciato Sono morto Ok Oh Grazie ragazzi Che mi avete aiutato In questa vittoria Grande Ninna È tutto benito tuo Abbiamo ufficialmente Vinto la prima partita Da playstation 5 Su fortnite Con la partita Probabilmente più brutta Della storia Cioè io ragazzi Sono stato un hub Incredibile Non ho fatto nulla Ragazzi Non voglio dire Ma quante chi le abbiamo In tutti Aspetta fammi vedere Ragazzi Ho fatto 3 uccisioni In questa partita Voi Ok 6 Siamo 9 Ninna È 17 17 Ragazzi abbiamo fatto 35 kill Secondo me c'è qualcuno Che ha barato Dicendo il suo numero Però vabbè Prima vittoria Prima vittoria Su playstation 5 Appena fatta Sono stanchissimo Pensavo di giocare meglio Ma l'importante è che ci siamo riusciti Ringrazio tutta la mia squadra E un onore Se siamo i primi in Italia Ad aver portato una vittoria reale Su Fortnite Su Fortnite